Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Scene da film nel cuore di Bussi sul Tirino, un inseguimento in pieno centro con auto che sfrecciavano oltre i 100 km orari, è terminato con il recupero di armi e di 15 kg di hashish. Tre gli arresti. Gli uomini della compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona sono riusciti a mettere le mani su un ingente quantitativo di stupefacenti che stava per essere consegnato a spacciatori del posto per rifornire il mercato locale, quello costiero. 15 panetti di fumo che i finanzieri hanno rinvenuto all'interno dell'auto, un Alfa Romeo bianca sulla quale viaggiavano i malviventi. Un'operazione fulminea nel corso della quale i tre uomini sono stati fatti inginocchiare e sdraiare a terra per le perquisizioni. I tre malviventi a bordo dell'Alfa Romeo hanno tentato di disfarsi di una pistola. Hanno partecipato al blitz anche i carabinieri della stazione di Bussi che a quanto pare avrebbero svolto supporto. Sull'operazione Vigeriserbo e sarà comunicata ufficialmente nelle prossime ore anche se il trambusto in centro non è passato inosservato e alcune informazioni sono già trapelate.